Palermo, Palazzo d'Angiò, 30 ottobre. Finalmente posso datare da Palermo. Sono arrivato qua il 25 ottobre, dopo una traversata piuttosto tempestosa. Le mie lettere da Napoli sono state, di recente, così piene di particolari riguardanti i miei impegni e i miei interessi, e il mio tempo è stato così preso dalle ordinazioni, che così inaspettatamente sono piovute su di me, che è un sollievo guardare intorno a me, avendo un altro sfondo e avendo, ancora una volta, qualcosa da descrivere. L'ingresso di Palermo colpisce il visitatore, non tanto per la città in sé, la quale è piatta e perciò non si presenta come Napoli con l'imponente castello di Sant'Elmo, quanto per lo stupendo anfiteatro di montagne che formano la Baia, e specialmente per la collina di Santa Rosalia, generalmente chiamata Monte Pellegrino, dall'eremo che sorge al sommo. Questo monte, che ha una sagoma singolare, scende a picco sul porto. Mi recai immediatamente presso il mio ospite, il principe Petrulla, il quale, nel modo più cortese, mi fece prendere possesso di un bell'appartamento, messo a mia disposizione. La terrazza sulla quale affacciano le mie finestre domina una splendida veduta di Santa Rosalia, del porto, del mare e della marina, o passeggiata pubblica, che corre lungo il Lido. Ho interamente occupato questi primi pochi giorni andando in giro per visitare le cose a vedere. La più faticosa fra tutte le fatiche che gravano sulle spalle di un viaggiatore è da dire tuttavia che Palermo compensa questa fatica, sia per quel che riguarda le cose interessanti che la città offre, sia per lo squisito scenario degli intorni. Ho ripetutamente visitato l'antica e bella cattedrale normanna, che i palermitani chiamano matrice o chiesa madre, il cui ricco insieme di architettura gotica è stranamente guastato dall'aggiunta moderna di una nuova cupola romana, molto bianca e pulita. L'interno però non risponde alle aspettative suscitate dall'esterno. Le tombe di alcuni re normanni e otto colonne di granito orientale costituiscono le cose più interessanti da vedere. La cappella del Palazzo Reale è letteralmente coperta da mosaici di soggetto sacro, curiosi per disegno ed esecuzione, ma degni di essere venerati soltanto per la loro antichità. La città è sporca nelle strade secondarie, ma due nobilissime strade, la strada del Cassero o Toledo e la strada nuova, che si tagliano ad angoli retti secondo due linee dritte, una nord-sud e l'altra est-ovest, sono due arterie spaziose che danno tono alla città. Dove le due strade si incrociano, i quattro angoli formati sono ornati di quattro fontane e quattro statue di Carlo V, Filippo II e Filippo IV. Quando piove, un provvisorio ponte di legno mette i passanti in grado di attraversare questo spazio aperto, su cui convergono torrenti d'acqua rovesciati dalle grondaie. Le case hanno tutte i balconi. Intorno ai piani superiori corrono balconi, lunghi e comodi ma chiusi, da fitte sbarre di ferro, appartenenti a monache di diversi conventi, che li prendono in fitto o li comperano, insieme col piano a cui appartengono, allo scopo di seguire da lassù le sontuose processioni religiose per le quali Palermo va famosa. Questi balconi, di solito, hanno una comunicazione sotterranea con il loro convento, costruita in altri tempi. L'usanza per la quale le religiose raggiungono i loro punti di osservazione, senza passare per le strade, ha origini molto antiche. La Marina è una bella passeggiata. È affollata, nei mesi estivi, la sera, da sfaccendati attratti da un fresco delizioso. Essi prendono posto sotto gli alberi illuminati da lampade e ascoltano i programmi musicali eseguiti dalla banda. La Flora, un giardino pubblico, è anche un piacevole luogo per convegni, rallegrato dalla musica le domeniche e nei giorni di festa. Ho visitato il giardino botanico sotto la saggia guida del giardiniere tedesco del principe, il quale, fedele alla costanza, riuscì a mettere piede a Palermo dopo una attraversata durata cinque giorni e un giorno di navigazione contro vento nella Baia. Palermo, 8 novembre. Le lettere fornite mi dal duca di Cassarano mi hanno permesso di visitare l'interno delle migliori case e il loro stile mi è piaciuto. Le stanze sono generalmente spaziose e ben proporzionate e i soffitti hanno tutti belle volte e sono dipinti con grazia. Un salone del palazzo della principessa Montevago arredato alla maniera pompeiana sia per quel che riguarda la mobilia sia per quel che riguarda le decorazioni e citò la mia ammirazione in maniera particolare. Il duca di Serra di Falco possiede anche un bellissimo palazzo in città e una piacevole villa ad Olivuzza a circa due miglia da Palermo. I suoi magnifici giardini sono ora nel pieno rigoglio di un inverno siciliano. È da tenere presente che qui i lons sono color marrone di estate e assumono il colore verde soltanto quando i mesi torridi sono passati. Nello stesso villaggio risiede d'inverno Sir Robert Dick con la famiglia ai quali sono debitore di molte piacevoli ore trascorse in loro compagnia. Il bel vedere al sommo della loro villa gode di un panorama perfetto. Verso nord è la città di Palermo a cui si affianca la vecchia severa fortezza amoresca della zizza. Il porto e le navi la baia in tutto il suo azzurro splendore inquadrata da una parte dal monte Santa Rosalia dall'altra da Bagheria e dalle sue colline sulle quali e su altre montagne lontane torreggia la vetta nevosa del vecchio Etna. Mentre la linea d'orizzonte del mare rotta soltanto dalle appena visibili isole di Alicudi e Filicudi chiude il paesaggio in quella direzione. Verso sud si estende un fertile piano costellato di ville e riparato da enormi colline che tuttavia permettono al mare di far capolino da occidente. Un milio più avanti è la residenza di campagna del principe Petrulla dove in questo momento regna una gran confusione. Si fabbrica, si sfabbrica, si sistemano giardini e campi eccetera con tale fretta che ci vuole tutto il sangue freddo di un onesto fattore scozzese che il principe ha avuto la fortuna di assumere al suo servizio per mandare avanti tutte queste cose. Con questa lettera vi mando una cassa di arance arancenane del giardino di sua eccellenza. Troverete delizioso il loro profumo. Gli alberi che le producono sono alti da un metro a un metro e mezzo circa. Qui le piante asiatiche non hanno bisogno di serra crescono liberamente all'aria aperta. Il giardiniere tedesco tiene in serbo grandi piani facendo sposare la sua scienza con le risorse naturali. I dintorni abbondano di magnifici ulivi che rimontano all'epoca dei saraceni. Molti di questi alberi col tempo hanno raggiunto proporzioni sbalorditive. Uno di essi in particolare di cui ho fatto lo schizzo ha un tronco dalla circonferenza alla base di 22 passi. Tutto il resto dell'albero è in proporzione. Ridereste nel vedermi andare in giro per fare schizzi. Il principe insiste nel farmi accompagnare da uno dei suoi campieri una specie di guardia campestre al servizio di famiglie nobili e di grandi proprietari. Egli è la mia scorta. Ha due anellini d'oro alle orecchie. La testa è coperta da un lungo berretto di lana color marrone che con l'aggiunta di un fiocco scende giù per le spalle. Indossa brache di velluto verde che coprono le gambe muscolose. Porta calzettoni azzurri il cui risvolto con la parte alta ricamata quasi scende fino alla caviglia. La giacca appesa con non curanza ad una spalla gli lascia libere le braccia nude per l'uso della sua arma. Le munizioni sono portate in una cartuccera data all'indono per ricordo dal suo vecchio amico e compagno il brigante Paolo soprannominato Cucuzzo. Dovunque mi fermi il lungo fucile dell'amico marmoreano si può vedere in perlustrazione tutto intorno. Si corre ancora un certo pericolo nelle vicinanze di Palermo. L'attività e il coraggio dei gendarmi napoletani non riscuotono molta stima. Sette di essi giorni fa avendo catturato un brigante lo stavano trasferendo a Palermo quando otto compagni del malandrino apparvero e subito gli diedero la libertà. I soldati non opposero l'esistenza. Ieri un altro soldato il cui compito era di impedire il contrabbando del pane che se fatto entrare a Palermo è soggetto a Dazio fu obbligato a consegnare il suo fusile prima e poi ignobilmente preso a calci da un contadino rimasto offeso per sospetti espressi circa il contenuto delle sue saccocce. Il contadino è in ma è stato consigliato al comandante di lasciarlo andare perché non si propaghi la storia della superiorità di un contadino su di un gendarme. Palermo 20 novembre. Ho lavorato senza posa durante gli ultimi dieci giorni per il principe. Ieri il console britannico Mr. Goodwin le cui cortesie contribuiscono enormemente a rendere piacevole il mio soggiorno qui mi condusse con lui a Monreale una città a 7 8 miglia da Palermo. Dopo aver visitato la cattedrale costruita da Guglielmo II detto il buono quarto re normanno della Sicilia e aver ammirato la sua architettura gotica e le ricche decorazioni interne mosaici ci recammo al convento dei Benedettini il cui annesso chiostro ornato di più di 200 colonne ognuna diversa dalle altre e interziate di mosaici provocò la mia viva ammirazione. I mosaici tuttavia hanno sofferto per l'incivile condotta dei soldati acquartierati nel convento al tempo dei disordini. Essi si sono divertiti a staccare gran parte delle tessere. Passamo poi nella stanza di uno dei monaci al quale il console mi introdusse e che io constatai essere un religioso informatissimo e piacevole. Uno offrì un eccellente pranzo in un appartamento chiamato Foresteria. I Benedettini sono celebri per il loro modo di vivere e la lista delle vivande del nostro pranzo non smentisce la loro fama per quanto voi forse penserete essere eccessiva la preponderanza dei piatti dolci. Per cominciare niente minestra piattini di acciughe prosciutto ulive in salsa e salame un piatto di frittelle dolci una grande ragosta o piuttosto un pesce simile a un gigantesco gambero perché esso non ha chele pasticcio di maccheroni con regaglie un altro piatto di qualcosa con la gelatina poli arrosto e insalata. Un piatto una specie di torta con crema rossa e bianca. Fui sorpreso di apprendere che la torta era stata fatta con patate poi zuppa inglese e dessert. L'olio era del più fino che io abbia mai gustato proveniva da una località vicina ed era il prodotto della parte migliore dell'uliva e cioè ottenuto spremendo o più esattamente calpestando le olive con i piedi. Le stesse olive sottoposte dopo all'azione della pressa producono un olio di qualità inferiore ma sempre buono. Le varie vedute di cui gode il convento che posto sul declivo di una collina domina la piana di palermo e le magnifiche località che quasi confinano con la metropoli in montagna e al mare sono veramente eccezionali. Prendemmo congetto dal nostro ospite per tempo per ragioni di prudenza e torniamo a palermo prima che fosse notte. Palazzo d'Angiò 11 dicembre. Domenica scorsa 8 dicembre ci fu una grandiosa festa in onore della Santissima Madonna Immacolata e il duca di Serra di Falco ebbe la bontà di invitarmi a vedere la processione dai suoi balconi. Al mattino andai alla chiesa di San Francesco e qui vedi una grande statua d'argento esposta nel bel mezzo del tempio per l'adorazione dei fedeli. Per quel che riguarda statue Palermo è più ricca della maggior parte delle località del continente per il fatto che la città sfuggì alle ladronerie dei francesi nel corso delle loro spedizioni antimonastiche attraverso l'Europa. A Palermo il numero di preziose statue di argento nei diversi santuari è cospicuo. Alle 4 mi recai al palazzo del duca nella strada del cassero che l'immacolata percorre da un estremo all'altro per andare dalla chiesa di San Francesco, sua residenza abituale, alla matrice o cattedrale dove ospite per una settimana. Allo scadere dei sette giorni, se i francescani dovessero dimenticare di riprendersi la statua con tutti gli onori dovuti, i monaci della matrice avrebbero il diritto di reclamarne la proprietà. Naturalmente è difficile pensare che i francescani possano dimenticare un obbligo del genere. I primi sintomi della processione furono offerti da torce alte 4 o 6 metri, fatte con canne secche, accese e seguite da contadini che suonavano zampogne, tamburini e nacchere. Le zampogne sono voluminose, la canna grande è lunga un metro o più, alcune sono fatte in un bel legno nero con chiavi d'argento. I tamburini sono molto piccoli e fatti interamente senza pergamena, essendo semplicemente cerchi muniti di campanelli. Essi sono impugnati con la mano destra e fatti battere sul polso sinistro e l'avambraccio. Dopo questi rustici musici sfilò una confraternita di penitenti, a testa e piedi nudi, con corde intorno al collo e corone di spine sulla testa, accompagnati e rallegrati da zampogne, tamburini e nacchere. Veniva poi una confraternita di gentlemen spazzini, vestiti di nero e a capo scoperto, con i capelli a ricciolini e i pantaloni rimboccati che lasciavano scoperti parte delle gambe e i piedi. Questi signori impugnavano scope nuove con le quali spazzavano e preparavano la strada per il passaggio dell'immacolata. Una precauzione tutt'altro che inutile, se l'immacolata vuol camminare senza sporcarsi i piedi. Poi un'altra confraternita che, recando panieri di erbe e di fiori, ne cospargeva la strada già pulita. Seguiva un corpo di bianchi penitenti con scarpe bianche e bianchi cappucci, che coprivano anche il viso. Avanzarono poi un gruppo di monaci dal saio nero, un gruppo di borghesi con bandierine d'argento, diverse confraternite e congregazioni e quindi i volontari della città con la loro banda. Questi costituivano un singolare corpo di cavalieri. Seguiva un bellissimo standardo di broccato d'oro, all'insegna del quale sfilavano i dignitari ecclesiastici con l'arcivesco che portava il sacramento e subito dopo, con l'altare e le luci di cera al completo, veniva la statua dell'immacolata, portata a braccia da 60 portatori e accompagnata da altri 60 nella stessa uniforme, pronti a dargli il cambio ai primi. Subito dopo la statua, con una candela in una mano e il tricorno nell'altra, incedeva Sua Eccellenza il generale Scudi, governatore generale della Sicilia e attualmente investito dalla funzione di vicere del reame. Dietro di lui venivano a capo scoperto il prefetto o prevosto, i nobili, i consiglieri, i senatori e altre personalità occupanti cariche pubbliche, seguiti da un reggimento di guardie e dragoni, mentre le carrozze di gala dei governatori, dei senatori e altri personaggi chiudevano la processione. I balconi con grate, proprietà delle monache, erano interamente affollati e l'idea del contrasto che il gaio mondo esterno offriva con l'opaca vita del chiostro sarebbe stata sufficiente per rendermi melanconico, se avessi avuto tempo per un sentimento del genere. Avendo il duca deliziato i suoi ospiti con quelle cose squisite che sono i gelati al pistacchio, per i quali Palermo va giustamente famosa, e che pur essendo in dicembre sono così graditi e sono anzi un dolce necessario in questo clima, noi considerando conclusa la festa prendemmo congedo dal nostro anfitrione. Ieri ebbi l'onore di andare col console dal governatore, che sedeva con i suoi consiglieri a un grande tavolo per deliberare, ritengo, su affari riguardanti il benessere del reame. Fumo ricevuti con molta affabilità. La sera mi recai dalla principessa di Montevago, le cui stanze con l'aggiunta delle luci e degli ospiti, creavano un'atmosfera brillantissima. La principessa, con la massima naivete, mi disse che, poiché l'occhio di un pittore si sarebbe estaciato davanti ad adorabili forme, mi avrebbe presentato alle più belle donne che il suo salotto ospitava, il che passò subito a fare, descrivendo e decantando i vari stili di bellezza delle sue amiche con una eloquenza e un entusiasmo che apparivano moltiplicati dalla confusione degli affascinanti oggetti dei suoi ologgi. Il gioco delle carte, di moda in questo momento a Palermo, presto monopolizzò l'attenzione di tutti. E io presi congedo, fra un giorno o due, col principe Petrulla, andremo a far visita al principe Partana, in questo momento nella sua residenza di campagna, a Zucco, a circa 20 miglia da Palermo. Sono sicuro che sarà una bella gita. Il clima è celestiale, fatto su misura per un viaggio come questo. Ogni giorno dipingo o disegno all'aperto. Posso stare in piedi o sedere per ore intere all'ombra, senza il più piccolo fastidio. Nel cortile del palazzo, donne con i loro filatoi e con telai per ricamare, seguono e cantano per tutto il santo giorno. Gli alberi sono gialli di aranci e limoni. Li stanno raccogliendo principalmente per esportarli. Ne ricevetti, l'altro giorno, 54 bellissime, per un Carlino, 4 pence. E ho sentito dire che qualche volta se ne possono avere anche il doppio con la stessa spesa. Sto imparando a mangiare il sicilianissimo frutto chiamato figo d'India. Ma ancora non sono in grado di capire com'è che piaccia tanto, al punto che il nostro amico C è riuscito a mangiarne 70 come prima colazione. Le piante di fichi d'India nei dintorni di Palermo presentano un curioso aspetto. Piccoli sentieri le attraversano in varie direzioni obbligate. Girare a destra o a sinistra è reso impossibile dalle formidabili spine di queste solide masse vegetali. Raramente esse superano l'altezza di 14 o 16 piedi, 4 o 5 metri.